Sittì nei pressi del comune degli operatori del consorzio di bacino del cantiere Pontecagnano-Faiano. Alla base della protesta è il mancato pagamento della tredicesima e della quattordicesima e di ritardi nel liquidare le varie mensilità. A fornire un quadro della situazione il delegato della UIL Antonio Donnarumma. Da come si è saputo già non abbiamo avuto la quattordicesima, e come si parla neanche della tredicesima. Purtroppo siamo qui fermi, non anche per colpa nostra, fin quando stamattina il portone dove andiamo a timbrare era chiuso, non si sa da chi non è stato aperto. Quali sono i stipendi che ancora dovete avere? Dobbiamo avere due mensilità, la quattordicesima e la tredicesima che a giorni sarà scaduta. Avete incontrato anche il sindaco? Sì, siamo stati sopra dall'amministrazione, che c'era il dottor Lanzara, con Castelluccio, Vernieri e le rappresentanti sindacali. Che cosa vi ha detto il sindaco? E lui ci ha detto che in tutti i modi ci darà una mano, però stamattina dobbiamo fare in modo di non rimanere le strade sporche, logicamente, perché i cittadini pagano.